Siamo con Marcello Ferrara, in arte Big Mo, presentatore della serata musicale della seconda giornata della prima festa democratica. Big Mo, oltre a essere un presentatore, è un cantante. È infatti un grande rapper, giusto? Giustissimo. Diciamo che nasco come cantante hip hop, rapper e poi nel corso degli anni ho sviluppato anche altre qualità come presentatore di eventi, alle volte anche un po' comico, intrattenitore, anche DJ, alle volte anche elettrauto, quindi sono sempre a disposizione. Quindi a 360 gradi, tutto ciò che desiderate lo trovate da Big Mo? Mi piace il mondo dello spettacolo, ci sono dentro da un po' e diciamo che è la mia vita, la mia passione. Quindi stasera questo pubblico presente, oltre a presentare, li delizierai con qualche tua performance? Ma spero che riescano a percepire il livello della mia comicità, che è molto ironica e speriamo che anche la musica che presenteranno i nostri ragazzi giovani, i gruppi emergenti, riesca ad essere apprezzata dal popolo di Cese e dal pubblico che c'è qui stasera. Ho capito, ti ringraziamo quindi ti auguriamo una buona serata. Buona serata anche a voi, Forza Pupia TV, Big Mo! Buona serata anche a voi. Buona serata anche a voi.